si stanno con questo, non mi trego Diamo un senso alla difesa, sai, questi qua ora prendono, qua lo sapevo, ora prende l'altro anzo, siamo a posto. Ma questa è la parte che ha l'asce, va bene, va tutto all'inizio. Ehi, Alex, Alex, vieni qua, veniti qua. Come? Ah, nessuno. Grazie a tutti 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 Wow Vai Un'altra vinta vai Ottimo